Musica Musica Qui ci troviamo a Costa Masnaga in provincia di Lecco avevamo l'esigenza di bonificare questo pezzo di terreno dalle radici e dalle ceppaie e dai sassi per farlo diventare pascolo abbiamo comprato ancora una macchina seppi in questo caso uno Star Soil 250 perché avevamo già un parco macchine quasi tutto seppi qui è stato trinciato piante di piccolo fusto e radici e sciocche in superficie fino a una profondità poi di 40 cm noi con una macchina seppi come questa riusciamo anche a fare più di un ettaro al giorno dipende comunque dal materiale e dal terreno come manutenzione niente di particolare ingrassare e soffiare i radiatori, niente di più un kit martelli non ha una durata media dipende un po' dal materiale che si va a frantumare o sassi o roccia addirittura radici si allunga la durata della vita del martello il vantaggio di questa macchina è appunto il rotore nuovo e gli utensili e soprattutto la polivalenza in base al materiale da macinare avendo un cambio rapido di velocità del rotore senza utilizzare utensili e quant'altro nella prima parte del lavoro abbiamo montato le slitte per non far andare la macchina in superficie abbiamo macinato piante e radici a filo del terreno nella seconda parte abbiamo tolto le slitte e abbiamo montato le slitte di profondità per macinare appunto in profondità i nostri clienti sono molto contenti del risultato finale del materiale mescolato e quasi sparito sotto la superficie cambiare le slitte è un'operazione molto semplice senza l'uso di grandi utensili le macchine SEPI corrispondono esattamente alle nostre aspettative grazie a tutti grazie a tutti